Roberto! Il due ore che lo cerca! Osservate, osservate! Allora, Roberta, puoi scrivere una protesia? Prendi la carta con la tua e tu, quella che vuoi. Che ti piace? Ok, fai vedere la carta a tutti, non voglio vedere soltamente. Che la vedono tutti, è importantissimo, eh! Fatto? Ci sei, Roberta? L'hai memorizzata bene nella mente, giusto? Adesso, Roberta, facciamo una cosa molto originale, ok? Ditti la carta del maschio. Facciamo la tua figa. Dimmi stop quando vuoi tu. Quando vuoi ci stop? Metti la carta, te la ricordi bene? Sì, la carta è dentro. C'è d'accordo? Non sono così. Niente, giusto? È dentro. Sicuramente, scolendo così, la vedrai da qualche parte, giusto? Rossa, nera. Potrebbe essere anche nera, come potrebbe essere rossa. È il cappello. Ti voglio dire una cosa un po' originale. Votelo pure, è in suo potere. Ti ammazzano, gentilmente? Bravissimo. Dimmi un numero. Un numero. Un numero. Un numero. Adesso, tu stai sempre, prendi tre carte e metti una domanda. Prendi tre carte. Un numero. Una. Due. Ma seguendole una di sempre l'altra. Certo, tre carte. Il numero che lei ha detto, giusto? Sì. Ok. Adesso io non farò nessuna mossa falsa. Guarda tu stessa, eh. La carta, che quanta era? Limiti. Le carte? Sì. 10. 10 le piglia. E lavender. Ma la cosa interessante, se me è 10 le piglia, te lo lascio così. Mescola le carte. Mescola! Mescola! Bravissimo. Ora secondo me è quarta. Cloro? però non vi ho detto una cosa ragazzi no aspetta aspetta bisogna essere più veloci è fantastico facciamo così no perché c'è le volte allora io mi scollettavo sì le ho tutte ce le vediamo sotto il naso ora la cosa però trai sempre queste cose quando manda bravissima io non la voglio vedere ma la vediamo a noi adesso dimmi stop metti l'amore degli stop ha detto stop guarda dimmi tu qui va bene qui o butta ancora una carta ok bravissima tutto chiuso ok ci siamo adesso guarda la carta sarà dentro giusto? una carta nera può essere nera adesso tu farai il miracolo prendi una carta prendi una carta chi carta era? ma come si è riuscita a questa? che immagino? è una mentalista è una mentalista questa ragazza sei bravissima amore però guarda c'è di una cosa guarda che ce ne fa un'altra ora facciamo una cosa di bassa più originale guarda 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 che si può vedere anche per i bambini è bellissima da vedere no? allora io adesso prendo una carta a caso libera ok? prendiamo ancora? 4 di picco lasciamolo dentro così spingi la carta spingi spingila in dentro amore bravissima ora adesso sei d'accordo che non è qua e non è qua? giusto? e non è neanche sotto ora tu stessa immagina un ascensore schiaccia il pulsante qua in mezzo schiaccia si si accorta di qualcosa eppure se funziona più o meno sta salendo eh terza si è salita aspetta aspetta guarda 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 dentro spingi la carta spingi la carta piano 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 schiaccia pulsante gira tu gira tu che pensi che gira gira salita quella delle carte però adesso facciamo un gioco di un gioco fantasma si chiama che è bellissimo allora chiedono per poi scrivete la cortesia che diciamo prendi la carta quella che vuoi che si perde giusto ora ovviamente il mazzo è regolare ci sarà da qualche parte giusto ora proviamo un gioco che si chiama mentalismo oculare hai l'occhio ceriolo azzurro perfetto è difficile però ci voglio trovare la tua carta deve essere dentro eh guardami bene adesso qualsiasi cosa ti dico non dire niente ok nera a 97% giusto? fiori 99% fiori no sincero sincero no sincero anche io vorrei magari provare che non mi hanno visto hai visto i programmi su skype, ho fatto la notte di video siamo lì, siamo alla Dymo abbiamo visto il mentalista Dymo fa queste cose qua che sono tutte molto uscite però adesso vi faccio dire una cosa ma solo con le carte fa lui perché ho visto il mentalista, faceva anche con le nuvole io volo anche se vuoi faceva con le immagini facciamo delle immagini delle nuvole ti guardava, hai pensato che con le nuvole che c'era prendila non la guardare mi raccomando non la guardare eh la tua carta era il secondo me si, ci può essere più o meno guardando che ci può essere però aspetta aspetta se ti rifiori guarda, ti ha una cortesia spingi la carta dentro e chiaramente no, solo subito ora vi faccio vedere invece un effetto che io sono arrivato verso un congresso a Milano perché è una mia invenzione io brevetto i giochi infatti su internet se volete vedere Magic Boy su Youtube io brevetto i giochi no? e c'è anche un mio libro alla Feltrinelli alla Rizzoli potete trovarlo tranquillamente si chiama Ultimo Pensiero di Stefano Nobile tutto scritto da me con il mio autore di Bologna pubblicità quasi vabbè ma non importa ci vuole anche questo buttiamo via tutto dentro allora la cosa interessante guardate questo effetto qua io proverò si chiama L'urla impossibile perché è veramente uno dei più difficili giochi del mondo prendi la carta la guardi solo tu e non la fai vedere a loro tu ti vai indietro via con te le rotaie ok? solo tu eh? bravissima adesso come ti guarda bellissima? per Roberta allora no, Mirella ma secondo te carissima Mirella dimmi stop quando vuoi qui? si ok, prendi la carta la guardi solo tu non far vedere solo tu ma parlo guardare non imbrogliare ve la ricordate la carta giusto? carissima dimmi stop quando vuoi tu stop prima o seconda? questa ok, adesso ascoltami bene solo tu ok te la ricordi? si te la ricordi? allora tu hai visto una carta tu hai visto una carta? tu hai visto una carta? giusto? ora io farò tre schiocchi col mazzo al terzo schiocco ognuno dice la sua carta ora si mischieranno le sillabe è una dissimilazione cioè tu dirai otto di picche e nove di quattro non importa poi capirete il gioco allora faccio tre schiocchi siete pronti o no? si quindi tu dici la tua carta? tu dici la tua carta? tu dici la tua carta? ok? uno, due, tre cinque di fiori cioè io ve lo prendo queste carte diverse e prendete la stessa carta io vi ringrazio di cuore